Hai capito? Amici che ci seguite da casa! Io questa volta per 1.500 euro vi lancivo su quella zoccola di mia moglie e vi voglio offrire questo divano! Voi chi cazzo ti immaginate per 1.500 euro del vostro misero salario? Questo divano, questo divano, non guardate più il divano! Eh? Amici capirete che avete fatto un buon acquisto! Ciao!